Bassetti, a che punto siamo con la curva epidemica? Il picco è stato finalmente raggiunto? Possiamo aspettarci ora una discesa dei contagi? Allora, la situazione è questa. Ormai da una decina di giorni abbiamo visto questa fase che noi definiamo di plateau. Se guardiamo il numero degli accessi e delle dimissioni della terapia intensiva, praticamente il numero è identico a quello di dieci giorni fa. Quindi vuol dire che ci siamo stabilizzati. Ora dovremo iniziare a vedere anche una discesa nelle ospedalizzazioni, soprattutto di quelle in terapia intensiva. Mi auguro che la curva possa essere rapida. I contagi si sono anche loro stabilizzati e probabilmente inizieranno a scendere. Però noi come indicatore per vedere come sta andando la pandemia dobbiamo guardare sempre l'ospedale, perché questo è un virus, soprattutto la variante Omicron, che ormai è predominante, molto molto contagioso. E quindi evidentemente avremo ancora probabilmente molti casi, però se i casi si rivelano essere fondamentalmente forme poco sintomatiche, simili all'influenza o al raffreddore, questo ovviamente non ci può far paura. Quello che in qualche modo dobbiamo cercare di evitare è che le persone, soprattutto quelle non vaccinate, finiscano in qualche modo in ospedale e soprattutto in terapia intensiva.